Incidente per Vittorio Sgarbi mentre si trovava in vacanza. Ieri pomeriggio infatti nel corso di un sopralluogo al parco archeologico Zubba, Palma di Montechiaro Agrigento, che mentre percorreva questo percorso che porta all'ononima grotta circondata da rovi e arbusti, Sgarbi si è ferito a una mano. Il sottosegretario poi è stato immediatamente medicato sul posto dal personale che era lì. Subito dopo poi Sgarbi ha fatto tappa sul litorale della costa agrigentina per raggiungere la riserva naturale di Punta Bianca dove ha voluto visitare anche la madonnina collocata al ridosso dell'ex casa dei doganieri. Ovviamente non è nulla di grave, è stato solo un graffio, ma è stato poi prontamente medicato dal personale di soccorso che era lì per lui. Sgarbi in Sicilia, ricordiamolo, attualmente si trova in vacanza.